Ok, sotto quel termosifone lì, ma c'è un ragno gigantesco che non so dove sia finito E deve morire Come cazzo faccio a ammazzarlo? Aspetta idea Oh cazzo Non funziona Adesso profuma quel cazzo di ragno, non è neanche morto Se me lo trovo sotto la scrivania farò saltare in aria a casa C'è sti cazzi, non faccio più video per questo